Continua il percorso con Enel Green Power che è la gestione del canale Albani. Questa mattina, Sindaco, c'è stato un nuovo incontro. Ci sono delle novità sulla disinfestazione rispetto a ieri? Sì, come già ci aveva anticipato Enel Green Power è disponibile a fare la disinfestazione dentro il canale. Quindi abbiamo deciso insieme di iniziare, riniziare insieme. Quindi probabilmente tra domenica e lunedì, quando il tempo lo permetterà, quindi che non ci saranno più le precipitazioni, sia il Comune per quanto di sua competenza, sia a Enel all'interno del canale, provvederà alla disinfestazione. Avete discusso anche del rinnovo del protocollo d'intesa per la gestione dell'Avifauna. Che cosa è emerso? Sì, a fine anno è in scadenza il protocollo d'intesa, quindi intendiamo aggiornarlo anche alla luce delle novità, nel senso che quest'estate purtroppo c'è stato l'avvento dei lupi. Oggi possiamo conclamarlo, possiamo dirlo chiaramente, che erano dei lupi, quindi è importante aggiornarlo. L'onel abbiamo messo in sicurezza nella darsena borghese e quindi è importante continuare con il protocollo d'intesa e c'è la disponibilità di Enel a continuare questo percorso importante. Qual è la sua visione a lungo termine sul futuro del canale Albani? Sì, allora innanzitutto riconosco a Enel Green Power che ho sollecitato quest'estate sin da subito per la pulizia a lungo il canale, soprattutto nella tratta urbana da Sant'Orso a Fano. Nonostante loro hanno avuto difficoltà con la ditta, hanno sempre risposto positivamente ai miei interpelli. Io ho chiesto a Enel se erano interessati a ragionare in prospettiva, perché non è possibile ogni estate ragionare in emergenza con le anatidi, piuttosto che con il verde, piuttosto che con le zanzare oggi. Quindi è importante ragionare in prospettiva e ho lanciato il tema di un interramento del canale Albani, che potrebbe diventare veramente un corridoio ecologico che collega il centro storico con la nostra periferia. Questo significa sicuramente chiudere definitivamente questo corso d'acqua, che è un corso d'acqua secondario. Naturalmente a questo punto Enel uscirebbe di scena e potrebbe invece tornare molto utile a tutta la collettività, quindi con i sottoservizi da parte di Aset, che a questo punto potrebbe allacciare e creare anche le fognature, sia acque chiare che acque scure e utilizzarlo anche per le acque reflue come oggi, quindi tutte le acque meteoriche che vanno a finire all'interno del canale. Quindi un utilizzo completamente diverso, visionario, sulla quale ho colto con molto piacere la disponibilità da parte di Enel a ragionare, anche in vista della scadenza della concessione che è nel 2029. Quindi dovremo fare tutti i passi necessari per far sì che arriviamo a un progetto, a uno studio di fattibilità per ragionare su queste ipotesi. Naturalmente lasceremo invariata la parte finale, quindi con un laghetto che al punto diventerebbe artificiale, perché comunque i fanesi sono molto affezionati, i bambini, ma non solo, ad esempio tutto il tratto dei passeggi e anche il tratto finale, quindi potremmo continuare a tenere sul lato finale sia una pista ciclopedonale sia un laghetto artificiale per le anetre. È un tema che ho lanciato insieme agli assessori Lari, Curzi e Magherlino, ma che abbiamo condiviso in giunta e che secondo me potrebbe rappresentare veramente quello che serve a Fano.